A Bolzano io ero relegato del blocco di, che era chiamato il blocco dei pericolosi. Il campo di concentramento di Bolzano era costituito da capannoni preesistenti e da un settore detto delle cellette costruito successivamente. In questo settore delle cellette venivano anche uccisi o torturati dei prigionieri. Mi ricordo che quando sono tornato dopo la liberazione a vedere quelle cellette, ho riscoltato che c'erano ancora macchie di sangue. Del blocco D c'era un capoblocco, ma c'è stata anche una cosa stranissima. L'elezione democratica del consigliere di Baracca, che in quella occasione sono stato eletto io, il quale aveva il compito naturalmente di controllare la vita all'interno del blocco, ma anche della distribuzione delle mele. Perché c'erano una grande abbondanza di mele in quei paraggi. E così io ho avuto anche questa funzione. Nell'agra di Bolzano c'erano due aguzzini particolarmente crudelli. Uno si chiamava Mischa Seifert e l'altro, mi pare, Otto Stein. Erano piuttosto feroci e giravano sempre col bastone, con la verga. E quando c'era l'ora d'aria per i prigionieri delle cellette, che circolavano un po' all'interno del campo, lui e il suo compagno si picchiavano i prigionieri. Erano crudelli. Poi nel diario che lei ha tenuto quando era a Bolzano, racconta di quando eravate stati caricati per partire per altri campi. Il vagone. A un certo punto si hanno caricati, si hanno fatti uscire e caricati su un vagone che doveva andare a Mauthausen. E' rimasto lì, fermo, mi pare, due notti, un giorno e due notti. E lì, si può immaginare, eravamo, mi pare, in 101 in questo vagone. Mi ricordo che io stesso gridavo attraverso un pertugio, una piccola apertura. luft, luft, wir kreppieren, aria, aria, noi kreppiamo. E in quel vagone c'era qualcuno che pensava già alla fuga. Se partiva il vagone erano già pronti per scassinare e aprire un varco per scappare via. E' stata una vicenda piuttosto angosciosa.